Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità la nuova legge sulla sentieristica e la viabilità minore, un provvedimento teso alla promozione di questo particolare settore foriero di attività turistiche attraverso l'individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico. La proposta è stata firmata dal presidente del Consiglio regionale Rosa D'Amelio e dal consigliere del Partito Democratico Erasmo Mortaruolo, che abbiamo ascoltato in merito. Si chiama la legge sulla sentieristica che è passata oggi, frutto di un lavoro importante di una sottocommissione che ho avuto l'onore di presiedere insieme al presidente della commissione Cascone, ha visto il lavoro di tanti consiglieri di tutti i gruppi e il frutto è un'ottima legge secondo me. Stamattina con il voto unanime del Consiglio credo che abbiamo affermato e prodotto un'ottima legge soprattutto per i comuni di montagna, soprattutto per il turismo sostenibile, soprattutto per un'accezione nuova di turismo e di una campagna verde, bella, solidale e sostenibile. Nel corso del Consiglio sono state approvate nuove norme in merito al ciclo dei rifiuti, un piano che non ha convinto i consiglieri 5 Stelle, come spiega Vincenzo Viglione. Noi abbiamo deciso di votare contro, non tanto per il lavoro che è stato fatto in commissione che in qualche modo ha recepito anche dei suggerimenti che noi avevamo manifestato in ordine allo studio che abbiamo realizzato sul piano dei rifiuti, però tuttavia ci sono delle criticità forti che non ci permettono di esprimere voto favorevole semplicemente perché ci sono dei dati che sono dissonanti. Nel momento in cui c'è un piano che parla di una produzione di rifiuti in calo, di una raccolta differenziata in aumento, di produzione proprio qualitativa della raccolta differenziata che cresce, questo praticamente i dati ce lo dimostrano e soprattutto i dati operativi degli stir parlano di quantitativi minori da trattare e quindi minor quantitativo da inviare anche verso gli inceneritori, però parallelamente nello stesso scenario si parla di un aumento di trattamento del fabbisogno di incenerimento.